Il prossimo ha partecipato a Italia's Got Talent, ma ha detto ai provini e ci tenevo a specificarlo. Fa numerose esibizioni in tutto il nord Italia, domani sera è a Ceresara, ma stasera avremo il piacere di vedere Robotic Pop proporre sulla base di Another Part of Me di Michael Jackson, la futuristica Robot Dance. Robotic Pop proporre sulla base di Another Part of Me Rozie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.